Un saluto dal Tg della mobilità. Alla programmazione straordinaria del trasporto pubblico da parte di Atac in contemporanea si è aggiunta anche la rete bus affidata ad Astral con 14 linee che formano i collegamenti S, alternativi alle linee metro che collegano la periferia al centro in corrispondenza con i nodi di scambio Cotral e Trenitalia. Le linee sono attive nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19, il sabato dalle 7 alle 10. E tutto appuntamento alla prossima edizione.